è una soluzione, sta zitto, però non con voi che ho il suo casino no, no, perché non facciamo così, noi siamo lo specchio della situazione voi siete un po' menagrami, voi volete male le aziende no, assolutamente scrivete quella roba che vanno sempre ecco, cosa è che scriviamo di sbagliato, ci dica, ci dica dottore non solo l'ultimo articolo di Chiera no, questo è la stacca, no questo ha fatto un bellissimo articolo che lui fa la pasta e poi dice l'agnesi, ma ce l'ha da stare l'agnesi però il problema c'è, insomma, è una settimana che i lavoratori sono in sciopero non c'è voglia di parlare lei ti spenga quella gejua